Nell'ultima domenica il Girone H di Serie D ha visto giocare soltanto uno dei 5 recuperi inizialmente in programma. L'emergenza Covid continua a condizionare il calcio dilettantistico in attesa delle modifiche al protocollo sanitario, ma le squadre puglisi provano comunque ad andare avanti e a mettersi al passo della stagione regolare. Traslittamenti e partite ripristinate saranno nuovamente 5 le partite in programma nel prossimo weekend. Riflettori puntati su Taranto Brindisi, con il derby tra Ionici e Messapici che dirà tanto sulle ambizioni di entrambe. Per quel che riguarda le positività in Casa Biancazzurra, la situazione sarebbe rientrata dopo i due casi delle ultime settimane. Tra il rosso-blu invece si registra la positività del direttore sportivo Francesco Montervino, che però non dovrebbe influire sulla regolare disputa del match. Slittato e quindi riprogrammato l'altro derby di domenica prossima, ovvero quello tra Gravina e Fasano. Il match era già stato fissato per domenica 15 novembre, ma è stato rinviato per un calciatore murgiano positivo e asintomatico. Sono attesi aggiornamenti sull'esto dei tamponi nelle prossime 24 ore. La sfida con i bianco-blu rimane in calendario per domenica 22 novembre e andrà quindi in scena nel prossimo weekend, complice anche l'indisponibilità della Versa a recuperare proprio la sfida contro il Fasano. Ripristinata anche Nardo Casarano, con i Granata che come il Fasano non potranno giocare contro la Versa. I rossazzurri invece sono reduci dal rinvio del match contro il Taranto, che però giocherà col Brindisi come da calendario iniziale. La squadra di Feola giocherà quindi al Giovanni Paolo II per riprendere il suo inseguimento al Sorrento. Scenderà in campo anche il Cerignola, l'unica squadra a giocare nello scorso weekend. Dopo il successo sul Portici, gli Ofantini andranno a Lavello per una sfida dall'alto tasso tecnico. Gli uomini di pazienza hanno ritrovato fiducia e proveranno a fare l'impresa in Basilicata, attraverso la quale potrebbero passare in due domeniche dall'ultimo posto a due punti dalla zona playoff. Chiude il programma la situazione più grottesca dell'ultimo mese. Putulano Altamura rimane regolarmente in calendario, ma in casa murgiana resta un grosso punto interrogativo dopo i rocamboleschi rinvii delle ultime settimane. Il club campano non ha ancora comunicato aggiornamenti sui tamponi e sulle positività, con la dirigenza biancorossa che rimane quindi alla finestra. L'unico auspicio a questo punto resta quello di avere notizie certe in tempo utile.